Ponti della tangenziale osservati speciali. In attesa di ulteriori test dopo le prove di carico effettuate a fine aprile, il Comune ha deciso di istituire per tutto il tratto interessato il distanziamento tra camion. I mezzi, che pesano più di 3,5 tonnellate infatti, dovranno restare ad una distanza di 70 metri. Questa prescrizione dei 70 metri di distanza serve a fare in modo che passi un mezzo pesante alla volta sul ponte, visto che il ponte misura appunto 70 metri. Una misura precauzionale, fanno sapere da Palazzo Moroni, che riguarda il tratto della tangenziale est. Stiamo parlando dei ponti che vanno dal ponte di Via Vigonovese verso sud, e quindi quelli sulla tangenziale che da est porta verso Volta Barozzo, verso Albignasico, quindi Viale Kennedy e i successivi. I pericoli non sono immediati, sottolinea l'assessore Michalizzi, va però tenuta osservata la situazione. I rilievi oggi hanno mostrato alcuni ammaluramenti sul ponte del Bacchiglione, che dobbiamo verificare e approfondire per capire se sono ammaluramenti localizzati o generalizzati su tutto il ponte. Quindi poi in questo caso interverremo di conseguenza. Sono controlli che stiamo facendo, molto rapidi, e quindi in pochi giorni sapremo che tipo di interventi dover attuare.